Durante il giorno del ringraziamento, una bella ragazza, anzi una vera e propria modella, ha deciso di non mangiare un tacchino. Anzi, ha scelto qualcosa di più... dolce. Ciao, belli d'ezio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose, siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Consiglio quindi di mettervi comodi e di trovarvi uno sugar daddy, perché adesso iniziamo ad indagare sul file di oggi. Prima però, ragazzi, devo ringraziare uno sponsor che ha reso questo video possibile e che mi sta supportando in questo periodo decisamente problematico. Si tratta di Surfshark. Letteralmente grazie a Surfshark ho potuto fare le ricerche per questo video e oltre a questo mi ha fornito un modo per far sì che cose assolutamente spiacevoli, come la chiusura del mio account per attività sospette, non capitino più. E può fare in modo che non capitino nemmeno a voi. Per chi non lo sapesse, Surfshark è un VPN, ovvero una rete virtuale privata. Ma cosa significa e perché può proteggerci ed aiutarci nella navigazione sul web? Come sapete, purtroppo, capita sempre più spesso di sentire persone a cui è stato hackerato un account oppure a cui sono stati violati i dati personali. Ecco, questo accade perché navigando sul web normalmente siamo esposti a qualsiasi tipo di pericolo. Per farvi un esempio, è come se dovessimo combattere costantemente contro un serial killer, solo che lui è armato e noi no. E sappiamo purtroppo come finiscono queste storie. Ecco, metaforicamente, Surfshark ci dà tutti gli strumenti per risultare invisibili agli occhi di questi serial killer. In sostanza, navigare con Surfshark ci rende anonimi e protetti perché saremo collegati sui loro server, che ci garantiranno un'esperienza del tutto sicura e tranquilla sul web, cosa che, credetemi, non è affatto scontata. E oltre a queste protezioni indispensabili, il servizio ci permette anche di navigare su tutto il web. Quindi anche su siti o contenuti disponibili sono in altri paesi. Per esempio, volete guardare una serie su Netflix disponibile solo negli Stati Uniti? Ecco, vi basterà collegarvi agli Stati Uniti, aggiornare la pagina e godarvi la serie. È davvero così semplice. Inoltre, dato che fanno le cose in grande, offrono anche un servizio di antivirus. Uno strumento che sto usando perché non voglio assolutamente perdere qualche mio account per colpa di virus, malware o hacker. Ecco ragazzi, grazie a questo sponsor potete provare tutto questo con l'83% di sconto e l'aggiunta di altri 3 mesi gratis. Vi basta andare nel link in descrizione e inserire il codice ANDREW per usufruire di sconto e mesi gratis. E potete stare serenissimi, non c'è alcun rischio a provare Surfshark. Qualora non foste soddisfatti, avete 30 giorni per richiedere un rimborso completo. Quindi grazie Surfshark per aver sponsorizzato questo video e per avermi reso più sereno su internet. Adesso, cominciamo davvero con il file di oggi. Quando ho scoperto questa storia, mi è sembrato di vivere un film. Una di quelle storie che dici, vabbè, non può mica essere vero. E invece poi realizzi che è tutto vero e che non c'è niente di finto, niente di recitato. Insomma, non ci dormi la notte. Regalerò qualche incubo oggi, me lo sento. Io vi ho avvisati. Devo parlarvi dell'assurda storia di Omaima Are Nelson. Omaima nasce in Egitto nel 1968 e purtroppo nasce in un contesto tutt'altro che felice. Non si sa bene il nome della città natale, ma sappiamo che la sua è una cittadina di periferia. La giovane Omaima ha un padre che definire mostro sarebbe riduttivo. È una persona senza scrupoli, di cui non conosciamo neanche il nome. Quest'uomo aveva un pessimo carattere, si arrabbiava sempre e in modo del tutto casuale, il classico padre abusivo. La cosa ancora più triste però è che la povera Omaima viveva in un vero e proprio incubo. Infatti, mentre era ancora una bambina, intendo meno di sette anni, suo padre abusava sessualmente di lei, della sua stessa figlia. Ma attenzione, non si limitava solo a questo. Questo essere ignobile abusava anche di sua moglie, la mamma di Omaima. In poche parole, ogni donna che viveva in quella casa era sottoposta ad un costante e spaventosissimo abuso senza alcun senso. La piccola non era per niente al sicuro all'interno di quelle mura, ma quello che non sapeva è che per lei le cose orrende erano appena iniziate. Quando raggiunge i sette anni d'età viene sottoposta ad una circoncisione femminile, una pratica che le procurerà danni permanenti e dolori legati alla sfera intima che si porterà dietro per tutta la vita. In pratica, se dovesse avere dei rapporti sessuali, li avrà sempre dolorosi. Non proverà mai più un piacere che spetterebbe ad ognuno di noi, che cosa davvero orribile. Comunque non è chiaro se questa circoncisione le sia stata fatta per motivi religiosi, motivi etici del posto, per costrizione del padre o per volontà della stessa Omaima. Per quest'ultima opzione ho sinceramente i miei dubbi. Credo proprio che sia stata costretta da fattori esterni, perché dai, a sette anni una bambina non può scegliere una cosa del genere. E a proposito vi consiglio un video sull'argomento di cui vi lascio il link in descrizione. Comunque la vita di Omaima è davvero tristissima e ingiusta. E anche sua madre patisce tantissimo questa situazione. Alla fine proprio lei trova il coraggio di divorziare da quel mostro e di lasciare quella casa, che era diventata più una prigione. Ma per quanto coraggioso, questo gesto mette le due donne in una condizione di miseria totale. Perché di base non hanno molti soldi e non sanno neanche dove andare per rimettere in piedi le loro vite. È una situazione davvero pesante. Ma alla fine decidono di trasferirsi in una zona del Cairo, che non era proprio il massimo. Pensate che quel luogo veniva, o viene ancora chiamato, non lo so, la città dei morti. Prende questo nome per via dei cimiteri che la circondano. E non è certo un posto felice. Lì però sembrano comunque sopravvivere in un modo o nell'altro. Quindi il tempo passa e Omaima compie 18 anni. A questo punto della sua vita, per quanto in passato avesse subito di tutto, la ragazza è cresciuta ed è diventata bellissima. È alta, slanciata, snella e con un viso che fa innamorare molti dei suoi coetanei. E lei stessa ad un certo punto si rende conto della sua bellezza. Ovviamente è traumatizzata dalle cose disgustose di cui è stata vittima. Ma adesso, che finalmente è cresciuta ed è bellissima, pensa che la sua situazione possa migliorare. Rapisce molti cuori, ma l'uomo che fa davvero arrivare una svolta nella sua vita è un lavoratore petrolifero di quelle parti. Il suo nome non è noto, quindi per comodità lo chiameremo John. John è americano e si trova in Egitto solo per lavoro. Ma diciamo che trova un motivo molto valido per amare la sua permanenza in Egitto. Ovvero Omaima. John ne rimane folgorato e anche lei sembra apprezzarlo molto. Hanno un feeling pazzesco e molto presto vanno anche a letto e fanno le loro cose. La madre della ragazza però è molto infastidita da questa relazione. Forse perché reduce dal matrimonio fallito, forse per razzismo vero e proprio, lei non vuole che la sua Omaima stia con un americano. Più che altro viene a scoprire che i due fanno l'amore. E per lei, come credo per tutti in quel contesto, i rapporti intimi prima del matrimonio sono uno scandalo. Ricordiamoci dove vivono e in che anno. Cioè sono gli anni 80 in Egitto. Quindi la situazione di Omaima è abbastanza scandalosa per sua madre. La donna infatti vorrebbe che loro due si sposassero prima di fare certe cosacce. Ma nel 1986 il contratto di John in Egitto scade. E lei decide di mollare tutto, di cambiare vita ancora una volta. E di andarsene per sempre da quel paese per andare a vivere col suo uomo negli Stati Uniti. Più di preciso vanno a vivere in Texas, dove li attende un nuovo inizio. Infatti i due alla fine fanno come imposto dalla madre di lei e si sposano. Eppure dopo il trasferimento e dopo il matrimonio, Omaima sembra cambiare. Diventa quasi un'altra persona. Adesso è molto più crudele ed è libera di scatenare tutto ciò che tiene dentro. Sicuramente starete pensando che è una cosa strana. E infatti non è chiaro il perché. E non è neanche chiaro se questo nuovo atteggiamento fosse nato lì in quel periodo o se magari si fosse trascinata qualcosa già da tempo. Che poi è esploso quando è arrivata in America. Fatto sta che lei e il nuovo marito John non stanno molto tempo insieme. Lei non rimane neanche per troppo tempo in Texas perché cominciano ad arrivare notizie sui suoi spostamenti lungo il sud ovest degli Stati Uniti. Per esempio una volta viene beccata a rubare in una farmacia. Un'altra aggredisce delle guardie in un grande magazzino. Rapina qua e là come se fosse una cleptomane. Forse lo è davvero. E lascia dietro di sé una scia di piccoli furti che in qualche modo la rendono più sfrontata verso il pericolo. Addirittura più armata. Sappiamo infatti che una volta terminato il breve matrimonio con John e una volta finiti quei crimini è passata qualcosa di più pesante. Una volta ha anche fatto una rapina a mano armata. Cioè ha minacciato degli uomini con un'arma e gli ha detto di darle tutto quello che avevano. Addirittura questi uomini, per vergogna, non l'hanno neanche mai denunciata. Specialmente in quegli anni era una vergogna se un uomo era vittima di abusi da parte di una donna. Ed è un tabù che ci trasciniamo ancora oggi purtroppo. Comunque una fonte cerca di spiegare in un modo molto interessante il processo mentale che ha portato Maima ad agire in quel modo. Si cerca di capire come mai una volta giunta in America è come impazzita e ha iniziato a minacciare e rubare. Ecco, pare che la donna a quel punto della sua vita si fosse concentrata molto sul suo corpo. Quella era la sua arma potentissima. L'unica che veramente possedeva. Ed era un'arma vincente che poteva sfruttare a suo vantaggio. Se ne rendeva conto benissimo. E quindi molto probabilmente ha semplicemente pensato di usarla. Nel senso, sapeva che non sarebbe mai finita nei guai per questi crimini. Perché una volta fatti, seduceva più uomini possibili per scroccare vitto e alloggio e spesso anche qualcos'altro. Lei però sa essere determinata e avere sangue freddo. Sa essere anche molto, molto seria. A quel punto quindi è come una mina vagante che viaggia per l'America alla ricerca del nuovo pollo da spennare. Maima salta di uomo in uomo e vive quindi una vita abbastanza precaria. Non c'è nulla di male nel vivere una vita on the road, come si dice spesso. Ma il suo caso è drammatico perché lei usa le minacce e ostenta la sua bellezza al fine di utilizzarla come arma di difesa dal mondo. Come arma di ricatto. Oppure come trofeo dato agli uomini in cambio di qualcosa. Non viene detto apertamente, ma credo che a questo punto sia palese supporre che si prostituisse. Era emancipata, sola, determinata e libera. Ma a discapito della salute altrui, pare proprio essersi circondata da questa sicurezza. Dalla sicurezza di poter ottenere tutto dagli uomini. Perché tanto nessuno avrebbe potuto resisterle. E se mai ci fosse stato qualche sciocco pronto a rifiutarla, lei o gliela avrebbe fatta pagare, oppure sarebbe passata ad un altro pollo. Molto semplice lo schema, no? Insomma, dopo anni di questa vita instabile, a saltare da un maschio all'altro, decide nel 1991 di attuare una nuova strategia. Ha capito che forse il vecchio sistema non avrebbe funzionato molto a lungo. La sua prestanza fisica sarebbe diminuita con l'avanzare dell'età. E siccome ha deciso di mercificare il proprio corpo a favore di un uomo che l'avrebbe mantenuta, sceglie di trovarne uno con cui stare per tutta la vita. Un uomo che la possa mantenere per sempre. Un uomo schiavizzato dalla sua bellezza e dal suo carisma. Pronto a farle e darle tutto quello che vuole. In poche parole, uno sugar daddy. Credo che sappiate cosa sia uno sugar daddy, ma comunque vi spiego brevemente. Uno sugar daddy è uno stereotipo di maschio maturo e ricco che dispensa amore e ricchezze a beneficio di una donna più giovane che, in cambio, gliela dà. Perdonate la volgarità, ma è esattamente questo il sistema alla base di questo rapporto. In realtà, però, ci sono anche delle eccezioni piuttosto frequenti. A qualche sugar daddy non importa il lato sessuale, ma vuole semplicemente una donna bella e giovane al suo fianco. Per cui, in sostanza, la mantiene in cambio della sua presenza. Ho detto che è uno stereotipo, ma di fatto esistono persone del genere e non solo al maschile. Ci sono anche le sugar mommy, per esempio. Quindi donne di una certa età e di un certo stato sociale in cerca dell'amore eterno a cui donare soldi, regali costosi e sentimenti. In poche parole, il mio sogno. Ma anche il vostro. Dai. Il problema alla base di questo tipo di rapporto è l'elemento approfittatore. Cioè il fattore che può spingere una sugar baby o un sugar boy nelle mani di questa gente solo per un mero interesse materiale. Cioè, solo per soldi e regali. Viene quasi spontaneo pensare male di questa gente giovanissima che si fidanza con persone molto più grandi e ricche. Ma ci sono rapporti e rapporti e a volte anche queste persone giovani sono davvero genuinamente innamorate. Ma davvero qui stiamo divagando perché si potrebbe parlare per ore di questo argomento. Sta di fatto che Omaima desidera essere la sugar baby di uno sugar daddy. Lei è una di quelle a cui non importa nulla dei sentimenti amorosi. Vuole solo essere mantenuta e cerca un pollo da spennare, ma che sia un pollo molto ricco e facile da raggirare. Infatti incontra la sua preda nel 1991 in uno squallido bar ad Orange County, in California. Lei entra lì quel giorno col precisissimo intento di uscirne in compagnia. Sfrutta tutte le sue curve per attirare l'attenzione su di sé. Gioca biliardo insieme a uomini all'apparenza molto facoltosi e sa di aver fatto centro. Tutti la stanno fissando, sono imbambolati dalla sua bellezza. Lei però sceglie la preda più succosa, quella che le sembra più appetibile rispetto agli altri. Nota un uomo arrivare in quel bar, a bordo di una splendida auto di un colore sgargiante. Questo è un uomo di mezza età ed entra vestito da tipico texano, con cappello e stivali da cowboy a dir poco sfavillanti. Parla con tutti come se conoscesse ogni persona presente in quel bar e sembra che tutti lo rispettino. Anzi, è effettivamente così. È un uomo eccentrico, facoltoso e decisamente appariscente. Si chiama Bill Nelson. Lui e Omaima interagiscono e parlano un po', e indovinate, finiscono per piacersi. Lei tanto sapeva di riuscire nel suo intento, era scontato che sarebbero finiti a chiacchierare, ma non si aspettava certo di aver catturato una preda così succosa. Bill è benestante, il suo modo di porsi con la gente è magnetico e vivace, è una persona splendida con cui si ha proprio piacere di parlare, ed è scritto come decisamente interessante, forse è una di quelle persone che ha sempre una storia da raccontare, e quel giorno in quel bar ad Orange County viene subito attratto dalla bellissima e giovane Omaima. Lei lo seduce con una facilità a tratti disarmante, per cui i due escono da lì e passano del tempo insieme. Iniziano proprio a frequentarsi, talmente tanto che i parenti di Bill vengono a conoscenza di questa relazione. La sua famiglia però è un po' stranita da quest'intesa, perché tra di loro c'è una differenza d'età abbastanza considerevole. Bill in passato era stato sposato, ma ora è un papà single, ha una figlia che non vive più con lui, e che ormai è grande. Margaret, questo è il nome della figlia di Bill, si sente un po' a disagio a vedere suo padre così preso emotivamente da questa donna. Se la loro intesa si trasformasse in amore puro, o persino in nozze, Margaret diventerebbe la figliastra di una donna addirittura più giovane di lei. Ripeto, niente di sbagliato, solo una cosa molto particolare. Una situazione che la famiglia deve accettare, ma non tutti ne sono in grado. Ricordiamo che siamo agli inizi degli anni 90, per cui ecco l'apertura mentale verso certi temi non era proprio al massimo. Ma comunque ragazzi, Bill è strafelice. Si innamora di Omaima e, sentite qua, solo pochi giorni dopo il loro primo incontro, si fermano a Phoenix e si sposano. Esatto, si sposano quasi in segreto, ma lo dicono comunque a tutti subito dopo la cerimonia. Il loro è stato un matrimonio legale, abbastanza frettoloso, ma molto sentito da parte di Bill, che non vedeva l'ora di mettere un anello al dito di Omaima. E lei a questo punto è a posto. Per quanto incredibile, è riuscita ad approfittarsi di Bill in maniera spaventosamente semplice. Nei giorni successivi conosce la famiglia dell'uomo e diciamo che riesce ad integrarsi abbastanza bene, senza creare troppi problemi o scandali. Possiamo dire che si abitua molto presto a questa condizione e non ha certo motivo di mostrarsi ostile nei confronti di quelle persone. È ormai diventata la signora Nelson. Bill, in tutto ciò, è entusiasta e non vede l'ora di celebrare l'evento della loro unione organizzando un gran party. Una festa da passare tutti insieme dato che non avevano celebrato le nozze in modo tradizionale e voleva rimediare così, ecco. E l'uomo fa in modo di far coincidere la festa con il giorno del ringraziamento. A questo punto Bill invita chiunque. Ovviamente chiama anche sua figlia Margaret, ma lei rifiuta l'invito. Sembra essere l'unica davvero ostile nei confronti di Omaima. Forse ha capito che in lei c'è qualcosa che non va e sotto sotto non approva questa loro unione. Non approva che suo padre si sia infatuato e addirittura sposato con una donna giovanissima in così poco tempo. Bill al cellulare ci rimane un po' male, ma va avanti con l'organizzazione. Padre e figlia, quindi, si salutano al telefono. Avevano avuto una chiacchierata abbastanza triste, ma non potevano immaginare che sarebbe stata l'ultima. Passa un po' di tempo. Si fa questa grande festa, credo, ma sembra mancare qualcosa. Anzi, qualcuno. È il primo dicembre 1991 e la polizia ottiene un mandato di perquisizione per la casa del 56enne Bill. E lo ottiene dopo aver trovato sua moglie Omaima alla guida della sua auto, l'auto di Bill. La donna sotto i vestiti aveva come nascosto quella che sembrava carne umana. Ma attenzione, al momento del ritrovamento di Omaima in quelle condizioni, Bill era scomparso da giorni, più precisamente dal giorno della festa, e anche Omaima risultava sparita. Così, avendo trovato lei in quelle inquietanti condizioni, si dirigono a casa dell'uomo, aprono la porta e letteralmente trovano l'inferno. Non siete pronti a sentire quello che sto per dirvi. Io vi giuro che non riesco a capacitarmi di come sia possibile tutto questo. E per una volta non voglio nemmeno immedesimarmi in quegli agenti quel giorno, capite? Allora, dentro la casa di Bill trovano Bill, fatto letteralmente a pezzi e sparpagliato ovunque. Il suo corpo è disseminato in punti specifici della casa. C'è la testa semicotta nel freezer, le mani nelle padelle e nelle pentole. Il torso è virato e appeso come una salsiccia in una stanza. Mi sono venuti i brividi. La camera da letto è così in disordine che sembra sia passato un carro armato. Ovunque l'elemento che regna è il sangue. È dappertutto impregnato nei tappeti, nei muri, nell'arredamento. E possiamo solo immaginare la puzza nauseante di putrefazione in quella casa. Il materasso nella camera da letto è ricoperto di sangue e, come una spugna, l'ha ormai assorbito. Ci sono cibi, cotti o semicotti con l'aggiunta di parti del corpo dell'uomo. La violenza e la meticolosità dimostrati fanno raggelare il sangue a tutti. Al solo pensiero che possa esistere un essere umano in grado di ridurre in quella maniera un altro essere umano fa davvero rabbrividire. Sembra che alcune parti del corpo siano anche state mangiate. La testa in particolare sembra aver subito una sorta di mezza cottura. E l'assassino l'ha conservata lì, nel freezer. Forse per mangiarla dopo. Non lo so. Il fatto è che, dietro questa carneficina, davvero raccapricciante, sembra esserci Omaima. Ma facciamo un piccolo salto indietro. Torniamo al giorno della festa. Non è chiarissimo quale fosse il giorno esatto perché una fonte dice il primo dicembre, stesso giorno del ritrovamento di Omaima e della scoperta di Billy in quelle condizioni, mentre da altre parti si facenno alla data 28 novembre. Comunque, prima della scoperta di quella carneficina, un certo José, un ex di Omaima, riceve la sua visita in casa. Lei gli chiede aiuto, è scossa e malmessa. Ha dei tagli un po' ovunque e sembra come aver rischiato la vita o una cosa del genere. Omaima spiega a questo suo ex, José, che suo marito Bill ha abusato di lei per tutta la loro relazione. Bill l'avrebbe legata a letto e costretta a subire le sue civizie. Gli dice anche di essersi liberato a un braccio, di aver rafferrato una lampada e di averlo colpito, per poi colpirlo con un ferro da stiro, rubare la sua auto e finire fin lì. José, una volta ascoltata questa storia, le chiede perché sei venuta da me? Perché non sei andata alla polizia? Il che è una domanda legittima. Omaima però risponde che non può andare alla polizia, perché nel tentativo di liberarsi, lo ha accidentalmente ucciso. Accidentalmente. Da come vi ho descritto la scena del delitto, però, più che una fuga disperata da un maniaco, sembra sia stata lei la maniaca. Cioè, Bill era stato smembrato e qualche suo resto cucinato. La versione di Omaima sembra far acqua da tutte le parti. Cioè, se fosse vero quello che dice, potrebbe anche essere che l'ha ucciso accidentalmente. Poi magari è andata nel panico e ha fatto tutto quel casino per nascondere il delitto. Ma, ragazzi, è davvero difficile che sia così. O almeno questo è ciò che penso io. José, invece, ovviamente non sa ancora la verità e sembra disposto ad aiutarla a nascondere il corpo. Quindi le suggerisce di portare i resti in macchina e sbarazzarsene. Ma come sappiamo, la donna è stata beccata proprio durante questo processo. E finalmente, gli agenti hanno scoperto tutto. Vengono quindi avviate le indagini e viene subito fatto intendere che ci fosse lei e solo lei dietro quella immonda tragedia. Non è mai stato chiarito se Bill l'avesse effettivamente abusata, ma il modo in cui lei lo ha ridotto aggrava tantissimo la sua situazione. La cattiveria inaudita di questi gesti ha scandalizzato tantissime persone. Anche gli addetti ai lavori, tra virgolette. È ovvio che Omaima soffrisse di qualche disturbo, perché alla fine ammette persino di aver mangiato le costole di suo marito con della salsa barbecue. Successivamente, però, negherà di averlo fatto, ma le prove sono evidenti e in casa ci sono sue tracce dappertutto. Omaima, ovviamente, viene arrestata con l'accusa di omicidio il 2 dicembre 1991. Il suo processo inizia quasi esattamente un anno dopo, il primo dicembre 1992. Durante le udienze in tribunale, afferma che la sua condizione fisica, ovvero il malessere intimo provocato dalla circoncisione quando era bambina, avrebbe reso i suoi rapporti traumatici e aggravati dalle aggressioni che avrebbe subito durante il breve matrimonio. I vicini, però, chiamati a testimoniare, dichiararono di aver sentito dei rumori davvero inquietanti quel giorno. E tutto fa pensare che, al di là dei suoi malesseri, lei fosse l'unica responsabile del brutale massacro. È stata quindi condannata per omicidio di secondo grado il 12 gennaio 1993, anche se un'altra fonte dice dicembre 1992. In ogni caso, è stata condannata al carcere a vita. Quando ha negato di aver mangiato le parti di suo marito, ormai era troppo tardi. L'aveva ammesso prima e tutti credevano che l'avesse fatto realmente, ma direi che è un dettaglio di poco conto considerando la violenza di quel massacro. Omaima ha richiesto la libertà condizionale per la prima volta nel 2006, ma l'è stata negata quando i giudici l'hanno giudicata imprevedibile e una seria minaccia per la sicurezza pubblica. È diventata poi nuovamente idonea a richiedere la libertà condizionale nel 2011, ma è stata nuovamente negata dalla commissione, la quale ha dichiarato che lei non si era assunta alle responsabilità dell'omicidio e che non sarebbe stata una cittadina produttiva se fosse stata liberata. La potrà richiedere per la terza volta nel 2026. Omaima Nelson è stata paragonata al serial killer immaginario Hannibal Lecter. Il suo caso è stato trasmesso in televisione nei programmi Happily Never After, Deadly Woman, Model Killers e recentemente il suo caso è stato anche trattato da molti proprio qui su YouTube. Che dire, è una storia talmente estrema da far paura. Perché davvero sembra una di quelle cose che si vede nei film ma è assolutamente vera. Possiamo provare ad analizzare i motivi per cui si è spinta così oltre ma quali motivazioni possono davvero spiegare un gesto simile? Possibile che si tratti solo di istinto di sopravvivenza o c'è dell'altro? Sembra ci sia decisamente dell'altro. Se consideriamo il passato traumatico della donna per esempio sicuramente possiamo farci un quadro della situazione un po' più chiaro ma almeno in teoria non aveva alcun motivo per fare tutto questo. Aveva avuto quello che voleva uno sugar daddy. Quindi perché mettere fine a tutto quanto in così poco tempo? Cosa stava pensando davvero in quei momenti? Sono domande alle quali probabilmente non avremmo mai risposta. Non sappiamo se lui in privato fosse un porco tanto quanto il padre di Omai ma da quel che sappiamo però sembra che la persona violenta in questa storia fosse lei. Ma forse Bill era davvero violento e le ha ricordato suo padre. Non lo so faccio delle ipotesi ma rimane comunque tutto troppo assurdo. Tra l'altro il fatto di accusare la vittima di essere stata violenta è una cosa molto comune tra gli assassini. Credo sia come un modo per legittimare le proprie azioni. Sono meccanismi psicologici affascinanti e terrificanti allo stesso tempo perché ci fanno rendere conto che noi umani siamo capaci di fare cose davvero allucinanti. E ragazzi non è stato il classico delitto passionale. Omaima ha tagliuzzato cotto congelato e appeso parti di Bill. Bisogna avere un sangue freddo non da poco per fare tutto questo e non credo proprio che basti solo essere arrabbiati o spaventati per agire così. Sembra che ci sia dell'altro qualcosa di molto più spaventoso. Ma voi cosa ne pensate invece? Sono curioso di sentire la vostra perché questa vicenda mi ha davvero sconvolto e come al solito siamo di fronte a un altro di quei casi in cui è chiaro che c'è una persona con dei traumi e se questi traumi non vengono trattati se questi traumi non vengono approfonditi è possibile che scatti qualcosa e a quanto ho capito questo è un fattore comune in tantissime delle storie che vi racconto. Ci sono dei traumi che non vengono trattati o vengono trattati male quindi la persona che li ha subiti a un certo punto esplode in un'era omicida pazzesca. È tanto triste che si arrivi fino a quel punto e quindi io mi chiedo quando è che impareremo a capire i segnali per poter intervenire di sicuro studiarli conoscerli sarebbe molto utile per cui vi invito ad approfondire tutto l'argomento dei traumi di come si manifestano di come riconoscere persone traumatizzate e come poterle aiutare e sicuramente sarebbe anche utile capire se noi stessi siamo rimasti traumatizzati da qualcosa perché non è detto che ce lo ricordiamo ragazzi. Comunque dopo tutto questo mio sproloquio io per i pochissimi fedeli che rimangono fino alla fine anticipo che nel prossimo video parleremo di una ragazza molto famosa sui social era davvero tanto seguita e amata anche su OnlyFans ma se ne parlerò io significa che è successo qualcosa di terribile spero quindi che rimarrete nei paraggi per cui se vi ho incuriositi ricordate di massacrare il pulsante iscriviti e adesso parlo con te sì proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccontato tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo se invece siete ancora qui io come al solito spero che anche questo video vi sia piaciuto vi ricordo di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao